Ciao, io sono Fabio e sono un fisioterapista del gruppo DSM. Oggi continuiamo la nostra serie di video dedicati al movimento funzionale. Analizzeremo il gesto di salita e discesa dal gradino. Ecco come dovremmo affrontare la salita su un gradino. Per portare il piede sinistro sul gradino è necessario spostare leggermente il carico sul piede destro. Flettere poi l'anca e il ginocchio di sinistra in modo da raggiungere il gradino. Si deve trasferire il baricentro in avanti e in alto dal piede destro al piede sinistro fino a quando il piede destro si svincola. La spinta dei glutei e dei quadricipiti di sinistra permetterà l'estensione dell'anca e del ginocchio fino al punto neutro. È necessario evitare eccessive lateroflessioni e rotazioni di bacino. La disfunzione più comune è portare il ginocchio troppo internamente rispetto al piede, sia nella fase di salita che nella fase di spinta. Un'altra disfunzione è l'eccessiva iperestensione del ginocchio durante la fase di spinta. Adesso vediamo come poter affrontare la discesa del gradino. Ad esempio, per scendere da un gradino con il piede sinistro è necessario portare il peso sull'arto destro, inclinare leggermente il corpo in avanti e portare il piede sinistro sul gradino sottostante, prendendo contatto con l'avampiede. Contemporaneamente il tallone destro inizia a sollevarsi. Il baricentro viene portato sopra il piede sinistro e quando è completamente sopra il piede sinistro il piede destro può staccarsi per essere portato sul gradino sottostante. Adesso vediamo quali criticità ci possono essere nella discesa del gradino. Una disfunzione molto comune nella discesa del gradino è portare il ginocchio che sostiene il carico molto internamente rispetto al piede. Spero che questa serie di video vi abbia aiutato a migliorare e ottimizzare il vostro movimento. Le referenze scientifiche le trovate in descrizione e potete fare dei commenti, delle domande sia attraverso i nostri canali che attraverso il nostro sito. L'indirizzo è www.gruppodsm.it e il nostro indirizzo email è info at gruppodsm.it. Alla prossima!